La folle notte Luca Onestini e Tonon, la folle notte, Raffaello finisce a terra in discoteca, l'ex tronista bacia tutte Luca Onestini e Tonon, la folle notte, Raffaello si sdraia a terra in discoteca, l'ex tronista bacia tutte C'era una volta un opinionista sempre incravattato, pacato e molto accorto C'era una volta un tronista taciturno, un po' schivo e per nulla scalmanato C'erano una volta Luca Onestini e Raffaello Tonon, erano quelli in versione ante Grande Fratello Vip 2 Poi tutto cambiò La metamorfosi dei due, dopo la conclusione del reality, si è completata, benvenuti Oneston La coppia di amici è ormai inarrestabile e irresistibilmente travolgente, trasformata Luca ha del tutto sdoganato il lato goliardico, scherzoso e prorompente del suo carattere, ma dove l'ha nascosto quando stava sul trono di uomini e donne? Raffaello è stato trascinato a ruota dal fido compagno Così è colo lasciare cravate e giacche, infilarsi un giubbotto in pelle borchiato e dare spettacolo in discoteca Sì, proprio lui, l'uomo chic dei salotti milanesi E finito pure per terra, in una notte foley Tonon e Luca, al Fellini è show, Oneston in azione La discoteta Fellini è stata presa d'assalto dai fan degli Oneston la scorsa notte e il duo, in qualità di ospite d'onore, non ha tradito le attese Dalle Instagram stories di Luca si capisce la notte folle trascorsa dai due Raffaello, con giubbotto in pelle, si è addirittura sdraiato a terra, così, in barba al bonton, mentre Luca gli faceva stretching, nell'affollato locale L'ex tronista si è poi impadronito del microfono e ha le, viva la vita, viva la gioventù e viva la notte Non ha mancato nemmeno di baciare tutte le fan, che come api con il miele, gli ronzavano attorno ovunque Che disgrazia essere belli Lo spettacolo, si presume, è durato fino a notte fonda Andrea Damante, Giulia De Lellis, Ivana Mrazova e Luca Onestini, scappati di casa Prima di fiondarsi con l'amico Raffaello in discoteca, Luca ha trascorso delle ore con Giulia De Lellis, Andrea Damante e Ivana Mrazova, a proposito, si attende l'annuncio del nascente amore Arriverà presto? Il bolognese ha fatto fare capolino sul suo profilo Instagram a una bella foto in compagnia degli amici e a una simpatica dedica, buon sabato raga da questo poker di scappati di casa Quant'è bella giovinezza e Quant'è bella?